Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Oggi parliamo degli accenti in italiano. In italiano gli accenti sono maggiormente tonici. Questo vuol dire che nella maggior parte dei casi l'accento si indica nella pronuncia e non nella scrittura. Ci sono però delle parole che vogliono gli accenti. In italiano abbiamo due accenti, l'accento grave e l'accento acuto. Questi accenti li troviamo su parole come caffè, felicità, onestà, però, che vogliono l'accento grave, e su parole come perché, affinché, finché, poiché, che vogliono l'accento acuto. Come abbiamo già detto, l'uso degli accenti non è molto diffuso in italiano perché l'accento tonico è sufficiente, ma ci sono dei casi in cui è obbligatorio segnare l'accento. Come facciamo a sapere quando dobbiamo segnare l'accento? Ci sono delle regole che ci aiutano a sapere e a capire quando dobbiamo obbligatoriamente segnare l'accento. Dobbiamo segnare l'accento quando scriviamo parole tronche con più di una sillaba, come ad esempio le parole che abbiamo visto prima. Caffè, felicità, onestà, perché, tutte queste parole che sono accentate sulla vocale dell'ultima sillaba. Dobbiamo segnare l'accento quando scriviamo i monosillabi. Già, giù, ciò, più, può. E infine, dobbiamo segnare gli accenti quando distinguiamo alcuni monosillabi dai loro omonimi. Ad esempio, da e da, verbo dare e preposizione semplice, è e è, verbo essere e congiunzione, li e li, avverbio di luogo e pronome, la e la, avverbio di luogo e articolo determinativo, ne e ne, negazione e particella pronominale, tè e te, il tè, quello che si beve, quindi un nome comune, e pronome. Quindi questi sono i casi in cui è obbligatorio segnare l'accento. C'è anche un'altra cosa che dobbiamo sapere. È consigliabile segnare l'accento quando dobbiamo distinguere due parole omografe, cioè che si scrivono allo stesso modo. Quindi l'accento ci aiuta a leggere, a pronunciare e a capire quello che stiamo leggendo. Prendiamo ad esempio le due parole, ancora e ancora. Se in una frase troviamo queste due parole, molto probabilmente l'accento sarà segnato in questo modo, ancora e ancora, per distinguere i due significati. Un altro esempio di questo è la coppia di parole, principi e principi. Quindi l'accento ci aiuta a capire il significato delle due parole, in questo caso. Qui non è obbligatorio, come dicevo prima, segnare l'accento, ma è consigliabile. Questo è tutto per oggi, grazie per aver guardato questo video e spero che vi sia utile. Ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!